Morire a 16 anni mentre ci si sta recando a scuola. E l'immane tragedia che questa mattina ha visto stroncata la vita di Marco Ragnetti, classe 2006 studente del secondo anno dell'Istituto Agrario Cecchi e giovane regbista delle Formiche Pesaro. Società sportiva che oggi ha vestito la pagina Facebook a lutto ricordando Marco con un post di dolore cordoglio. Marco, residente a Borgo Santa Maria, è morto sulla statale urbinate non lontano da casa. Si stava recando a scuola poco dopo le 8 quando, per cause in via d'accertamento, ha invaso la corsia opposta di marcia dove sopraggiungeva un camion che in vano ha provato a evitarlo. L'impatto è da subito sembrato gravissimo. I sanitari del 118 intervenuti hanno allertato l'eleambulanza ma poi, constatando la situazione disperante, hanno preferito catapultarsi al reparto reanimazione dell'ospedale di Pesaro dove però il ragazzo è deceduto poco dopo il ricovero per la gravità delle ferite riportate alla testa e al torace. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale di Pesaro e di Tavuglia che hanno chiuso al traffico diversi chilometri di strada per consentire le operazioni di soccorso.